facendo esperienze di Lui. Il nostro essere qui è esperienze di Dio. E' per questo che dobbiamo così immergerci nel mistero del Signore e questa sera vogliamo riempire quest'aula del nostro canto. Poi vedremo un po' se possiamo illuminare questo luogo con la nostra luce. Intanto cominciamo a cantare, cantare al Signore perché è veramente grande e buono con noi. Diamoci così inizio alla nostra riunione auspicando che la grazia di Dio ci assista e questa sera c'è una bella serata una serata in cui possiamo riempirci di Dio e riempire questo luogo delle lodi di Dio. Come la saggirà, come la saggirà. su sala, levantarà, come la saggirà, come la saggirà. e non si cantarà, come la saggirà, come la saggirà. Come la saggirà, come la saggirà, come la saggirà, come la saggirà. come la saggirà, come la saggirà. su sala, come la saggirà, come la saggirà, come la saggirà. noi cantiamo a Gesù, noi cantiamo, noi cantiamo a Gesù. noi cantiamo, noi cantiamo a Gesù, noi cantiamo, noi cantiamo a Gesù. come la saggirà, come la saggirà. su sala, levantarà. come la saggirà, come la saggirà, su sala, levantarà. Camminerà, camminerà, correrà, non se fatigherà, nuova puestà tendrà, nuova puestà tendrà, lo che ama, lo che ama è Gesù, nuova puestà tendrà, nuova puestà tendrà, lo che ama, lo che ama è Gesù. Ecco facciamo buona accoglienza a tutti, salutiamo la nostra anziana sorella che pure ha voluto venire questa sera per godere di questa nostra preghiera e adesso ci accogliamo gli uni gli altri, è importante questa accoglienza nel nostro rinnovamento perché accogliere l'altro significa accogliere Cristo e far sentire all'altro che è importante per noi, per la nostra vita, perché succede spesso quello che succede nel mondo, che ci avviciniamo senza conoscerci e senza amarci, qui invece ci dobbiamo riconoscere per fratelli e amarci come fratelli. Questo è molto importante per la nostra vita di comunità, entrare cioè in comunione gli uni con gli altri e fare vivere il Cristo dentro di noi. Ecco già il numero si ingrossa, già è una bella comunità questa sera, ringraziamo e benediciamo il Signore perché è qui in mezzo a noi e allora facciamoci l'accoglienza, vediamo chi sa ben dirigere l'accoglienza in modo da galvanizzare la nostra presenza e renderci una serata bella e tranquilla meglio di quelle che trascorrono gli altri vedendo il gioco di fuoco di Santa Rosalia. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano, dai la mano a tuo fratello, dai la mano, dai un caldo benvenuto, mostrando il gioco, dai la mano, dai la mano, dai la mano a tuo fratello, dai la mano, dai la mano, dai la mano, dai un caldo benvenuto, mostrando il gioco di sereno, dai la mano. al tuo fratello, dai la mano, ci ha riuniti, ci ha riuniti, te lo danno, ed insieme ringraziando, e di doni che darà, a chi con fede vi chiederà, dai la mano al tuo fratello, dai la mano, dai la mano al tuo fratello, dai la mano, dai un caldo benvenuto, mostralui il tuo senso, dai la mano al tuo fratello, dai la mano, dai la mano al tuo fratello, dai la mano, dai la mano al tuo fratello, dai la mano, dai un caldo benvenuto, mostralui, Il nostro sereno, dai la mano al suo fratello, dai la mano. E riuniti nel suo amore, colmeremo un solo cuore. E insieme nella gioia, giungeremo alla sua gloria. Dai la mano al suo fratello, dai la mano. Dai la mano al suo fratello, dai la mano. Dai un caldo benvenuto, mostrano il nostro sereno. Dai la mano al suo fratello, dai la mano. Allora il Signore vuole che noi ci accogliamo gli uni gli altri. Ed è bene che lo facciamo adesso. Allora accogliamo anzitutto in mezzo a noi, magari facciamo quell'altro canto che fa quello io ti accolgo. Quello è il re, quello è il re, il re, io ti accolgo. Accogliamo, buonasera, anzi facciamo buonasera, buonasera lo sappiamo. Però dal nostro posto ci dobbiamo muovere perché se stiamo al nostro posto non va bene questo canto. Buonasera, buonasera, buonasera a te. Buonasera, 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 buonasera a te. Buonasera, buonasera. Se guardo nei tuoi occhi io vedo che l'amore ci unisce nel signore. Buonasera, 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 buonasera a te. Buonasera, buonasera, buonasera a te. Buonasera, buonasera, buonasera a te. Se guardo nei tuoi occhi io vedo che l'amore ci unisce nel signore. L'amore ci unisce nel signore. Alleluia! 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 E come un guento che dal capo discende, giù sugli orli del manto. E come un guento che dal capo discende, giù sugli orli del manto. Come un guento che dal capo discende, giù sugli orli del manto. Come un guento che dal capo discende, giù sugli orli del manto. Come un guento che dal capo discende, giù sugli orli del manto. Ci benedica il Signore dall'alto, la vita ci dona in eterno. Come un guento che dal capo discende, giù sugli orli del manto. Come un guento che dal capo discende, giù sugli orli del manto. Alleluia. Alleluia. Signore com'è bello e giocondo che i fratelli vivono insieme. E' bello e giocondo per noi, ma è bello e giocondo per sé. Perché tu prendi gioia da noi quando noi stiamo insieme. perché tu vedi realizzarsi in noi la tua immagine. Tu sei fatta la tua immagine e somiglianza al Dio Trino. E quando noi stiamo insieme e troviamo la gioia nello stare insieme, tu vedi riflessa la tua immagine sempre sopra di noi. perché tu, Dio uno e Trino, senti la gioia nello stare insieme. Le tre persone vorticano l'uno sull'altro nell'amore. E lo stare insieme è la gioia, è la vita, è la felicità eterna. E quando tu vedi, Signore, che noi stiamo insieme, che noi ci cerchiamo, che noi ci riversiamo gli uni sugli altri, tu gioisci perché vedi la tua immagine brillare su di noi. Noi facciamo la tua gioia. Questa sera vogliamo stare insieme per fare sì la gioia nostra, ma per fare la gioia tua, Signore. Quando noi siamo disgregati, tu ti la tristi perché vedi disgregata la tua immagine. Ma quando tu ci vedi uniti, tu gioisci perché vedi che noi, che siamo molti, diventiamo uno. Oh, Signore, questa sera vogliamo diventare uno nell'amore, vogliamo unirci gli uni agli altri e rendere gioia a te, oh, Signore, che ci hai fatto le immagini e somiglianza. gloria e gloria e onore a te, Signore. Gloria e gloria a te, oh Signore. Grazie. 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 Ti vogliamo ringraziare, oh Signore, perché tu questa sera ci hai chiamati qua uno per uno, Signore. Come ha detto la sorella, abbiamo lasciato le nostre case, abbiamo lasciato le nostre situazioni per venire incontro a te, oh Signore. e tu questa sera vuoi il nostro cuore perché lo vuoi riempire di te, lo vuoi riempire della tua presenza, lo vuoi riempire del tuo Santo Spirito. E allora questa sera il nostro cuore deve essere rivolto a te. il nostro cuore questa sera ti vuole lodare, ti vuole benedire, ti vuole ringraziare per le tue meraviglie, per i tuoi benefici, perché ci hai chiamati, oh Signore. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Signore, affinché la nostra gioia sia veramente piena, affinché possiamo esultare in te e di te, vogliamo che tu ci doni il tuo Spirito, oh Signore, perché solo nel tuo Spirito possiamo alzare gli occhi da noi stessi e guardare te che sei il Signore. Ti diciamo, Signore, manda il tuo Spirito, quello Spirito che purifica, quello Spirito che ci fa nuovi, quello Spirito che ci dà la dimensione nuova dell'essere con te. Noi ti invochiamo, Spirito di Dio, vieni, vieni su ciascuno di noi, vieni a cambiarci, vieni a farci saltare dalle sedie per la gioia di riceverti e di fare esperienza di te. Vieni, oh Spirito, vieni. Santo 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 Spirito, vieni. Purifica il mio cuore, purifica le mie labbra. Lava mio Signore. Lava mio Signore. Vieni di Persia. Santo Spirito, vieni. Santo Spirito, vieni. Santo Spirito, vieni. Santo Spirito, vieni. Grazie a tutti. Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. Santo Spirito vieni. Santo Spirito vieni, Vieni su di noi. Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. Vieni su di noi. Che illumina la mia vita, cammina con me, oh Signore. Cammina con me, oh Signore. Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. 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 Grazie a tutti. 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 E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Grazie a tutti. 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 Spirito di amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senza di tutti. Grazie a 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 tutti. E ecco il canto è sceso. E quel canto è sceso nei vostri cuori. E il canto che è sceso dentro di voi. Faccia cantare la vostra vita. Io attendo una vita nuova da voi. Vostro vedere, voglio vedere i vostri volte. Voglio vedere il volto di voi. il mio figlio, nei vostri volte. Sio Signore Gesù, mosso il tuo volto nei nostri volte al Padre tuo. Questa sera, Signore Gesù, mostra te stesso in noi al Padre e di al Padre questi sono i figli che tu mi hai dato. Sio Signore Gesù, tu ci hai guadagnati al Padre con il tuo sangue e queste sere ti ringraziamo, ti benediciamo e vogliamo cantare a te col santo spirito che tu ci hai dato. Metti, Signore Gesù, la tua voce dentro di noi, metti il il tuo cuore dentro di noi, perché col tuo cuore e col tua voce possiamo cantare al Padre. Grazie. Un canto sommesso, ma tutti dobbiamo cantare, tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. Alleluia. e a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a tutti. Io sono uno. e anche tu. tutti. e a tutti. Grazie a tutti. con tutti. Grazie a tutti. con tutti. e a tutti. io canto. io canto. con tutti. con tutti. io amo. con tutti. e tutti.